Quante volte ci sono gente che sono pensate come scarti della società. E il Signore continua a chiamarvi a voi, a andare lì come le prime. Hanno scatenato una guerra diversa, quella contro la povertà, contro l'ingiustizia. E hanno diffuso un'epidemia diversa, quella dell'amore. Contro la prima guerra mondiale, questa guerra diversa. Contro la povertà e l'ingiustizia. Contro l'epidemia alla spagnola, l'epidemia dell'amore. E questa è stata la vostra strada.